Dolci, tradizionali, tocchi innovativi, materie prime di altissima qualità, trionfo dei colori e tante novità. Anche quest'anno super lavoro per i pasticceri chiamati a realizzare colombe e uova di cioccolato per questa Pasqua 2015. Noi siamo andati ad intervistare lo storico pasticcere Renzo Zanolini, presidente dell'Associazione Pasticceri dell'Alto Adige, per capire se la gente acquista ancora o no colombe e uova di cioccolato. Sì, secondo me sempre di più, perché proprio quest'anno anche se lievano le uova più grandi, la gente in questo momento non esagera, però non va da spese, cercavano sempre quelli più grandi, e noi li facciamo a latte, fondente, bianco, li mettiamo insieme anche misti, e così apprezzano molto molto di più queste cose. Chi acquista una colomba o un uovo di cioccolato punta sempre di più al prodotto artigianale, di qualità, ma poi ovviamente c'è chi cerca la novità, ad esempio come queste creazioni, davvero uniche. Ho visitato la fiera di Rimini, che è la fiera più importante d'Europa, e lì ho comprato delle serigrafie, delle serigrafie di burro di cacao, e basta fondere la cioccolato sopra e rimane impresso quello che ci è. Noi abbiamo fatto il panterato, abbiamo fatto vari colori sul viola, tutti a fiori, molto d'occhio e molto bello, ecco, qualcosa di nuovo. Un tour de force per i pasticceri chiamati a lavorare ore e ore per realizzare queste prelibatezze, oltre un migliaio quelle prodotte qui nella storica pasticceria di Via Dalmazia. Una colomba al minimo, dalla partenza con la madre, con la lievito madre, ci vogliono al minimo 72 ore per arrivare alla produzione, poi la produzione continua, però quando si parte ci vogliono 72 ore. Ovviamente non bisogna dimenticare la sorpresa da mettere all'interno dell'uovo di cioccolato, e qui la fantasia dei clienti non manca. Beh, come sorpresa ci portano loro dei buoni, per esempio dell'estetista, della parrucchiera, o varie cose, e noi mettiamo dentro tutto, cerchiamo di accontentare tutti. Per gli amanti delle colombe e delle uova di cioccolato, insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per pensare alla dieta c'è tempo, almeno fino a dopo Pasqua.